Preoccupazione a Valmondione per il destino dell'unica banca presente in paese. Per ora cambia solo l'Iban, ma per il futuro non sembra ci siano certezze. Albino torna al 500 sui passi del Moroni. Domani una giornata dedicata all'arte riporterà in vita il passato. Intanto si pensa già al cinquecentenario della nascita del pittore. Benotto atleti bergamaschi o cresciuti a Bergamo parteciperanno ai campionati del mondo di atletica leggera in programma dal 26 settembre al 6 ottobre in Qatar. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca incidente stradale lungo la provinciale della Val Borlezza intorno alle 13 di oggi. È successo in territorio di Sovere all'altezza di Sellere. Lo scontro ha coinvolto una Volkswagen Golf, un Audi Q5 e una moto Suzuki. Burkman sul posto per i soccorsi sono arrivate l'automedica e due ambulanze. Su entrambe le vetture sono entrati in funzione gli airbag. Tre i feriti, fra questi anche un bambino di due anni. Nessuno comunque è in gravi condizioni. Sono stati trasportati in ospedale a Esine e Lovere per accertamenti il bimbo e il motociclista, un uomo di 64 anni, entrambi in codice verde. Per chiarire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Clusone. Lo scontro ha creato code in entrambe le direzioni di marcia, in colonna anche bus con gli studenti di ritorno da scuola. Soccorsi in azione nella tarda mattinata anche in Val Gandino. Un incidente si è verificato poco dopo mezzogiorno a Gandino, al confine con Cazzano Sant'Andrea. Un uomo di 79 anni, imprenditore di Gandino, è caduto dalla bicicletta forse per un malore mentre percorreva via Innocenzo. L'impatto con l'asfalto sembra sia stato piuttosto violento. L'uomo avrebbe riportato un trauma facciale e una sospetta frattura. Sul posto per i soccorsi è intervenuto un'ambulanza della Croce Verde di Colzate. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di Seriate dove è giunto in codice giallo. Chiudiamo la pagina della cronaca, proseguiamo con il telegiornale. Gli abitanti dei piccoli paesi di montagna si sono rassegnati in questi anni alla perdita di diversi servizi. Così a Valbondione ha destato una certa preoccupazione la comunicazione di banca intesa San Paolo relativa alla riorganizzazione delle proprie filiali. Al momento non è prevista alcuna chiusura della filiale di Valbondione ma nella lettera si legge che i correntisti potranno continuare a recarsi nella filiale in paese fino a quando non chiuderà. Abbiamo cercato di saperne di più intervistando la sindaca di Valbondione Romina Riccardi. Ad è stato preoccupazione a Valbondione la notizia che la filiale di intesa San Paolo, un'unica banca presente in paese, verrà trasferita a Gromo. Lo diciamo subito, non significa che intesa San Paolo non ci sarà più a Valbondione. Qual è la situazione? Esatto. A fine agosto abbiamo ricevuto noi residenti di Valbondione che abbiamo il conto corrente in banca intesa San Paolo, una lettera dove veniva comunicato appunto il ridimensionamento della filiale di Valbondione. Da subito mi sono attivata per riuscire a capire con la direttrice di cosa si trattasse. Il ridimensionamento in questo momento è riferito solo al cambio delle coordinate bancarie. Nella lettera si parla del disagio che si potrebbe avere per quanto riguarda le operazioni, ma soltanto per il weekend. Da lunedì la banca sarà ancora aperta, i dipendenti saranno ancora operativi e la situazione continuerà così per come è. chiaramente martedì ho incontrato anche il responsabile di area d'intesa San Paolo per avere certezze sul futuro della nostra banca, perché un cambiamento del genere è naturale che faccia pensare in un futuro ad una possibile chiusura. Quindi dovevo dare anche delle risposte certe certe ai miei cittadini. Il responsabile di area non è stato in grado di darmi delle sicurezze, per quanto rimarrà aperta la banca o se chiuderà a breve o a lungo termine. Intanto rimarrà aperta. Chiaramente le scelte vengono dettate da un'azione impenditoriale di antintesa San Paolo che è dettata dall'alto e quindi gli stessi dipendenti e lo stesso responsabile di area al momento non è al corrente. La situazione è questa, quindi voglio rassicurare i miei concittadini. Nello stesso tempo vorrei anche portare avanti una sorta di osservazioni che se da una parte una banca con l'intesa San Paolo che è la prima banca d'Italia sta attuando un ridimensionamento delle filiali, dall'altra parte abbiamo posti italiane che sta supportando i paesi piccoli e soprattutto di montagna. Quindi anche noi come Comune stiamo valutando questa situazione affinché in un futuro sia comunque garantito il servizio bancario in paesi, sia che venga da una parte o dall'altra. In Val Seriana continua a tenere banco il tema limiti di velocità e multe, se ne parlerà anche lunedì sera a Clusone nel corso di un incontro organizzato dal Circolo PD dell'Alta Valle e sarà anche l'occasione per allargare il tema anche alla questione mobilità. Sentiamo. Multe, limiti, viabilità. Cosa succede in Val Seriana? È il titolo di un incontro in programma lunedì 23 settembre alle 20.45 all'auditorium della scuola primaria di Clusone. Perché questo appuntamento? Come tutti sappiamo il tema della viabilità è un tema scottante in questo periodo per due motivi principalmente. Il tema del elevato numero di multe che sono state recapitate ai cittadini della media e Alta Valle Seriana e in secondo luogo per i limiti di velocità restringenti in alcuni tratti. Come Circolo PD Alta Valle Seriana pensiamo però che la questione non si fermi solo a multe e limiti ma sia di più ampio spettro e riguardi le infrastrutture in tutta la Val Seriana. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro dibattito pubblico nel quale affronteremo i diversi temi, tre temi in particolare. Le multe sicuramente, i limiti di velocità che verranno già in parte ritoccati da provincia in seguito all'incontro di giovedì scorso con alcuni amministratori locali e comunità montana ma soprattutto il tema della riduzione dei tempi di percorrenza della Val Seriana. Rispetto a quest'ultimo tema ci tengo a precisare che cercheremo di riproporre alcune soluzioni, alcuni punti di vista che sono stati trovati da alcuni amministratori e tecnici in un incontro che si è tenuto a Prada lunga un paio di mesi fa. Vi aspettiamo quindi numerosi per partecipare al dibattito, per proporre e presentare le vostre riflessioni e le vostre soluzioni. Grazie. E a proposito di viabilità chiuderanno ancora per sei notti le gallerie di Albino lungo la superstrada della Valle Seriana. Per completare la messa in sicurezza infatti non sono bastati i lavori iniziati negli scorsi giorni. La chiusura che va dallo svincolo di Albino allo svincolo di Cene Sud è prevista a partire da stasera venerdì 20 settembre fino a giovedì 26 settembre ogni notte dalle 21 alle 5 del mattino successivo. Restiamo ad Albino anche se cambiamo argomento. Parliamo di cultura, di arte in particolare perché domani la cittadina torna nel 500 sui passi del Moroni. Scopriamo cosa succederà. Albino da tempo è impegnato nella valorizzazione della figura più illustre a cui ha dato i Natali. Stiamo parlando del pittore Giovanni Battista Moroni. Ci sono anche delle iniziative a breve proprio dedicate a lui. Sì domani 21 settembre avremo la seconda edizione dell'iniziativa sui passi del Moroni. Tutto il centro storico di Albino verrà allestito come nel 1500. Ci saranno botteghe dove si potrà assistere a performance in diretta di artisti, dove si potrà assistere alla lavorazione di filati e insomma tutta una serie di iniziative legate proprio all'arte e alla cultura che c'era in quel periodo. In San Giuliano sarà poi allestita un'opera a cui la popolazione potrà partecipare di Steven Cavagna e questo sarà poi un ricordo dell'iniziativa che nel 2019 vede proprio impegnate parecchie associazioni del nostro territorio. Io devo dire che sono molto felice di aver assistito dopo decenni di ripresa ancora dall'assessorato e di constatare che la realtà associativa dal punto di vista culturale in Albino è notevolmente cambiata. Sono nate associazioni nuove, associazioni che sono capaci di collaborare, che sono molto vive e molto attente alla condivisione dei progetti e effettivamente il progetto del Moroni ha condiviso, ha unito diverse associazioni. Parlo di percorsi albinesi, parlo di Albino di Alte sul Serio, del circolo fotografico ma anche di tante altre realtà culturali. E proprio domani, sempre in occasione della giornata del Moroni, il circolo fotografico di Albino farà la premiazione del secondo concorso nazionale di fotografia e questo alle ore 15. Alle ore 16 invece ci sarà l'inaugurazione della mostra legata al secondo concorso nazionale di pittura. In questo caso la premiazione della mostra sarà poi domenica prossima il 29 con una performance artistica ad hoc il venerdì 27 e concluderanno tutte queste iniziative proprio i percorsi che noi stiamo studiando anche di avvicinamento al 2021, anno dove si festeggeranno i 500 anni della nascita dei Moroni. Con le associazioni ci stiamo già trovando e iniziando un po' a pensare quello che potrebbe essere il modo corretto per poter organizzare delle iniziative che possano portare poi pregio a Moroni come figura ma anche alla nostra cittadina. Cittadina che sicuramente dal punto di vista culturale ha ancora molto da dare. Ci sono non soltanto Moroni ma ci sono tanti artisti ancora da promuovere in modo adeguato. Ci sono anche luoghi da scoprire e stiamo lavorando un po' rispetto a queste che sono queste tematiche in collaborazione proprio con questo associazionismo che effettivamente è molto molto vivace dal punto di vista culturale. Per cui di questo io ne sono enormemente felice. Va a loro il mio grazie perché di per sé l'amministrazione sola non potrebbe riuscire a far tutto perché comunque c'è bisogno di tante persone in queste occasioni e tante persone se poi queste persone sono anche appassionate il risultato sicuramente è bello e bello per tutti e anche i cittadini di Albino possono scoprire qualcosa che non conoscevano essere quindi più orgogliosi della propria cittadina. Per cui il mio invito è il 21 domani alle 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 15 in San Bartolomeo per le diverse inaugurazioni e prime azioni ma poi a farsi una bella camminata per le strade di Albino nel Cinquecento. Ci fermiamo adesso per una pausa il telegiornale torna tra poco. Riprendiamo con il nostro telegiornale. Don Davide Rotaconti sta per lasciare Clusone e continuerà il suo ministero a Cologno al Serio dove sarà ancora direttore dell'oratorio. Domani sera il saluto della comunità. Nel fine settimana a Clusone sono in programma alcuni appuntamenti particolari. Sabato sera il saluto a Don Davide. Domenica la replica di uno spettacolo è andato molto bene. Dopo il grande successo che abbiamo avuto a maggio con tutte le sette repliche sold out di Barnum, Un sogno d'occhi aperti che è il musical proposto dall'oratorio di Clusone che coinvolge oltre 130 volontari tra ragazzi giovani e adulti abbiamo deciso in anticipo sui tempi di replicare tre volte questo spettacolo anche in occasione del saluto a Don Davide e dell'accoglienza a Don Alex il nuovo curato. Andremo in scena domenica 22 alle 17, sabato 28 alle 21 e domenica 29. Allora andiamo in scena domenica 22 perché sabato 21 ci sarà appunto il saluto ufficiale a Don Davide da parte della comunità. Alle 18 ci sarà la Santa Messa seguita da un piccolo buffet in oratorio e poi sempre al cinema dell'oratorio ci sarà una serata dedicata un po' al saluto di Don Davide di cui però non vi anticipo nulla. Adesso lo sport. Ben otto atleti bergamaschi o cresciuti a Bergamo parteciperanno ai campionati del mondo di atletica leggera in programma dalla prossima settimana a Doha in Qatar. La Fidal di Bergamo ha organizzato un momento per loro. Vediamo. Presentati presso la cittadina dello sport in città gli atleti targati Bergamo che dal 26 settembre al 6 ottobre prenderanno parte ai campionati mondiali di atletica leggera a Doha, capitale del Qatar. Un vanto per la terra aerobica che per la prima volta schiera alle griglie di partenza un gruppo così numeroso composto da Saradossena, Yassin Eracic, Fofan Hassan, Nicole Colombi, Matteo Giupponi, Marta Milani, Alessia Pavese e Roberto Rigali. Ecco un'emozione oggi presentare questi atleti in partenza. Non sono tutti presenti ma ce ne saranno otto che porteranno i colori di Bergamo. Certamente otto. Abbiamo Saradossena che fa la maratona che oggi non c'è perché gareggiando a mezzanotte si sta allenando di notte e di giorno dorme. Poi abbiamo Yassin Eracic che anche lui fa la maratona però non c'è perché attualmente è in Marocco ad allenarsi. Poi abbiamo Matteo Giupponi marciatore che farà la 50 chilometri assieme alla Nicole Colombi che oggi era qua. Anche lui per impegni non può venire da tonde. Sono gli ultimi giorni degli allenamenti per cui è giusto che abbiano lo spazio prima per allenarsi. Poi abbiamo Fofan Hassan che nei 110 ostacoli, quest'anno dopo otto mesi che si è trasferito a Fornia ad allenarsi con l'allenatore cubano, è riuscito a fare il suo minimo per cui anche lui ci andrà, però oggi ha Fornia ancora ad allenarsi. Poi abbiamo Marta Milani, la caposalda, è la storia della staffetta 4x400 per cui non poteva non esserci. Poi abbiamo Roberto Rigali che è un bergamasco adottato che si allena qui a Bergamo con il nostro Alberto Barbera e nella squadra della 4%. Marta Milani, staffetta 4x4 mista e staffetta 4x4. La mista sarà subito ai primi giorni, sabato 28 la batteria, la finale domenica 29, mentre la 4x4 donne sarà a fine manifestazione, quindi sabato 5 e domenica 6 la finale. L'obiettivo piacerebbe essere titolare, però siamo in 7 e non correremo tutte, quindi vedremo. e più in generale spero che tutte e due le staffette, al di là che corro meno, si qualificano per la finale perché credo che vagliamo sicuramente la finale in entrambe. La maglia azzurra è sempre una grande emozione, questa è la mia credo trentesima maglia azzurra, però come ho già detto anche prima nella conferenza è sempre un'emozione, è come se fosse sempre la prima volta, a me vengono solo i brividi, solo il pensiero che la posso indossare. Cosa porterò di me? Porterò la mia cattiveria, visto che serve questa, in gara, e di Bergamo cosa porto? Il mola mia. Un particolare percorso di preparazione in questo periodo? Ma è stata una preparazione lunga perché ho fatto l'indoor, che sono finite a marzo, è già aprile, abbiamo iniziato con i raduni, con le gare test, perché c'erano i mondiali di staffetta a maggio, e adesso siamo a fine settembre, deve ancora arrivare l'evento più importante, quindi è stato veramente un anno tosto, infatti penso che dopo queste gare l'anno prossimo non farò l'indor perché ho bisogno un attimo di staccare, di rigenerare, perché ho fatto veramente tantissime trasferte, questa è la quinta nazionale assoluta quest'anno, quindi direi che va bene così. E ci aspetta adesso un nuovo appuntamento con la rubrica Erbe e Salute, spazio dunque ai consigli della dottoressa Antonella Agostini. Buonasera a tutti, come di consueto in questo periodo ci troviamo per parlare del problema della caduta dei nostri capelli. È un problema che esiste da sempre e che sempre esisterà, nonostante la scienza e la tecnica vanno avanti nell'affinare prodotti che possono aiutarci a rallentare questo fenomeno. È un problema che non è legato all'età e tanto meno al sesso e al colore della pelle, perché può colpire uomini e donne indistintamente, giovani e adulti senza problemi. Poi c'è chi perde i capelli perché è un fattore genetico, ereditario, c'è chi li perde perché ha avuto un forte shock o un forte stress, c'è chi li perde perché ha delle carenze ormonali, tipo la donna in menopausa o l'uomo in andropausa, e comunque è sempre un fastidio, chiamiamolo così, che ci affligge da anni. In questo mese, in tutte le farmacie che hanno aderito all'iniziativa, potete partecipare gratuitamente alla check-up del capello. Vi fanno un esame dove viene analizzato la vostra salute del capello e del cuoio capelluto in modo da avere un quadro personalizzato per la vostra situazione. Questa sera vediamo insieme dei prodotti naturali che potete utilizzare senza effetti collaterali proprio per bloccare e rallentare il fenomeno della perdita dei capelli. Io direi che il prodotto, la sostanza più importante di tutti è la cheratina. La cheratina è una proteina fibrosa che è composta da 18 aminoacidi ed è quella praticamente che dona resistenza, elasticità e fortifica praticamente il nostro capello. È l'anima del nostro capello. Senza cheratina, se ci si abbassano i livelli di cheratina, cominciamo a perdere i capelli. Quindi è molto importante l'apporto di questa sostanza nel nostro fisico se vogliamo avere una chioma folta e in salute. Un altro prodotto naturale senza effetti collaterali che potete utilizzare è il miglio. Il miglio è un cereale, tra l'altro è senza glutine, quindi anche l'estratto secco che trovate negli integratori può essere utilizzato anche dalle persone che hanno problemi con il glutine ed è anche un buonissimo nutrimento per la nostra chioma. Il miglio è molto ricco di vitamina del gruppo B e di aminoacidi solforati che, guarda caso, contribuiscono alla produzione di cheratina che è quella che praticamente tiene in piedi il nostro capello. Quindi miglio e cheratina sono e devono essere alla base di un buon ricostituente per i nostri capelli. Dopodiché abbiamo la biogenina che è un'altra proteina che agisce proprio a livello della papilla dermica, quindi dove sta ancorato il capello. Ci sono dei minerali molto importanti che possono essere utilizzati come lo zinco e il rame perché partecipano alla sintesi e alla produzione della cheratina. Quindi tutti questi prodotti sono prodotti naturali, non hanno effetti collaterali e possono essere utilizzati senza problemi per bloccare e rallentare il più possibile il fenomeno della perdita dei capelli. Fatevi consigliare dal vostro medico o farmacista di fiducia. Arrivederci e buona serata. Per noi adesso una pausa, torniamo tra poco con la parte finale. Ci avviciniamo alla conclusione del nostro telegiornale con i programmi di Antenna 2. Iniziamo dal canale principale che questa sera alle 20.25 propone promoserio eventi, alle 20.30 una nuova puntata del settimanale di informazione Target, alle 22.10 Italia Economia e alle 22.30 la seconda edizione del TG. il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera dedicata alla manifestazione Scuola e Bici insieme, che ha coinvolto circa mille alunni delle classi quarte delle scuole primarie della Valle Seriana. Il canale sportivo 628, alle 20.30 il programma di motori Paddock, alle 22.30 la partita di calcio Pradalunghese-Gavarnese. E adesso l'Almanaco, domani è sabato 21 settembre, il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.26. La luna è all'ultimo quarto, sorge alle 23.23 e tramonta alle 15.17 di domenica. La Chiesa ricorda San Matteo Evangelista. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, per nubi basse al mattino in parziale dissolvimento e di nuovo presenti in serata, velature al pomeriggio, temperature stazionarie. È tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti.